Ciao a tutti ragazzi sono Rinneganevo e oggi siamo su un video particolare non sono solo sono in compagnia di una nostra ex compagna di clan e in più c'è anche cancellato dagli amici tutti quindi a parere mio è un po una merda però la conoscete penso che la conoscete perché è abbastanza famosa è Escher96 e dica puoi presentarti agli altri no niente non ho niente da dire non ha niente da dire come dice lei come dice lui come dice lei ora mi danno anche del lei perché sono una persona di certa importanza comunque oggi abbiamo deciso di fare una partita insieme visto che da tanto tempo che non la facciamo pensiamo di fare una partita in deathmatch a squadre o uccisione vediamo cosa preferisce anche lei i fusi sono tipici i fusi sono tipici di uccisione confermata fin dai tempi di mv2 principalmente uccisione confermata erika ha sempre giocato con noi poi non si sa che fine abbia fatto niente non si sa cosa preferisce ho iniziato a giocare competitive e ho eliminato tutti qualsiasi persona che provasse a gioinare dal mio party da da qualsiasi lobby è eliminato anche i suoi amici cioè tutti ha iniziato a giocare con noi ci ha mandato a fanculo praticamente e adesso ci elimina tutti perfetto grazie che partita preferisci fare è giusto ma boh se vuoi fare un tct o beh uguale tct è già troppo difficile dai facciamo un deathmatch dove l'elite della merda si trova sempre in deathmatch niente gente che ha una super mega cazzo tuta rimani fermo sdraiato immobile come un lombrico cazzo come i camaleonti no no ma in sto gioco ti basta una granata per fare esplodere la mappa si poi ci sono le granate lanci esplodono sei volte poi vabbè devi essere connessionato come tutti i call of duty come sempre come io sono io vanto una mega connessione di due due mega già tanto per me due io arrivo a uno e mezzo sì però non credeteci io ho giocato a casa sua in call of duty ghost con un caricatore di remington quattro persone caricatore ma basta era un conto qua è cambiato tutto ma proprio tutto quando ci vedono con nato aperto c'è un nato moderato quindi guardano mi stuprano e basta e tu devi subire basta io ci metto 800 colpi per uccidere che poi nel replay gli spacciano per quattro io non ci credo ma si sono ma è una bagianata non ci crede nessuno correndo ho sbloccato in uniforme minchia basta così poco eh sì ormai ecco ecco la prima granata che mi fa scusa ma che non ho mai vista quella che non ho mai guarda questo che striscia ho trollato uno in diretta era lì e ho cominciato gli giravo intorno niente vabbè vabbè vendica quelli di pubblica sono sempre a riscarsi hai provato a fare qualche nuke qua? 23 tool nuclear è finita la partita che ero a 24 erica la migliore partita che ho fatto io non faccio una chem ma nuke quello che è ad agosto ciao proprio pure su salvaguardia le facevamo aiuto mi sparano il puffo e via no? e si va a comandare tanta roba io mi fido pochissimo dei miei compagni di squadra perchè so già che mi manderanno i nemici sempre che mira del cazzo mira di merda no sono morta aiuto mi sto incastrando miro un bombardamento spariti almeno uno ne ho preso io non trovo nessuno zio di betlemme no no sono tutti sono tutti negli angoli no sono tutti sono tutti oddio stavo uccidendo il mio voltur no gesù cangelo questo qua col coltello mi son girato perchè avevo finito i colpi ma si potrà niente gesù gesù poi io sono sfigato come la merda c'è se mi ha ucciso questo qua col coltello che non ho manco visto col coltello si ma questi giochi non sono niente con quelli vecchi si questo vero mv3 mv2 quelli si che erano giochi normali si camminava nessuno che superpoteri bello perchè si potevano ci si potevano scondere quali non ci sono posti belli da nascondersi fallo si ma appunto che fa cagare i superpoteri quelli che odio di più cioè se in serie ti arrivano ti killano quei superpoteri mi girano i coglioni si questi ma poi non sono neanche tanto belli questi cioè quelli di black ops 3 erano più più fighi c'era il tempest che era fantastico dai giù ma camoro si invisibilità lì non si vede non si vede mai ma mai nella vita neanche se è un centimetro da te poi è bello perchè quando gioco faccio le facce da idiota perchè mi concentro le facce dai da e poi andrò a vedere ma fai con la webcam anche? eh si ah si? dai allora poi vado a vedermelo voglio vedere le facce si perchè io tiro fuori la lingua mi concentro perchè la lingua mi concentra di più anch'io quando vado alle lana a giocare che mi filmano sono sempre a tipo con gli occhi spalancati sullo schermo tipo con la drogata veramente tutti attenzione sono a 15 tu nuclear non la farò mai ma che io sono sfigato no 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 ma che coglioni figa mi spawnavano tutti lì ma che palle ma vaffanculo stavo ricaricando mi hanno inculato io voglio sempre queste minchiate ma che coglioni violentata questa è stata una stuprata di livello epico brum brum si solido no sono morta in piedi no io ho 28 colpi per incidere loro mi guardano affermativo pacco drone in arrivo nella zona vediamo si contrattacco che bella o le ricompense le ricompense questa qua era una lobby easy nuclear invece no lo spawn aiuta sempre me a morire oh evo in serie facciamoli spawnare continuamente nello stesso punto ormai manca il 6 kill si ma non ce la faccio erica sono andato io ho bisogno dei miei tempi vabbè no no andiamo a cazzo duro eh la corazza mi ha salvato il giro col coltello eh si ce n'è uno col coltello minti morisse la madre bastardo con il cecchino il dragliato per terra nell'angolo frisciava oh la madonna Gesù l'Eylander no eh sempre dietro devo fare la killcam vai fallo mannaggia allo zio angelo vai vai dove sono i nemici ma cos'è no si è mosso il joystick a caso non capivo no no ti giuro niente non capivo non so cosa è successo 27.5 cos'è sta roba I would non ho capito cos'è successo mi sei iniziato a spostare la visuale a caso sono andato in crisi la gran merda comunque i coniglietti spacca da un cifro è la cosa più bella di sto gioco sembri tu quando andavi a prendere il blitz figa correvo e basta come il ratio mi è andato sotto sotto oh scorcia ancora troppo bello veramente fantastico si ritentiamo l'ultima tanto veloce quanto sono hai visto i nuovi ciondolini che hanno messo si ma hai visto la nuova arma la mitraglietta che è tipo un raggio laser che cazzo è ho paura a vedere erica guarda quello lì è a livello prestigioso al cazzo quello lì mi ha stuprato bello però quello lì mi ha fatto prum madonna la fulminata di zeus la fulminata di zeus mi ha tirato io non so se usare silenzio di tomba a cosa a volte non so se mi serve o meno eh si cioè dipende tu che specista usi il il secondo no ok ma io volevo farli tutti poi io ne ho rotto il cazzo ah io sì in seguito lo metto per forza perché con quello che uso c'ho tipo il po' sbruciatore di ghost usi se te lo ricordi che ti faceva recuperare il jet prima ah può essere era questo qua il cretino che trollavo oh 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 la mi metta la seconda arcobaneno hai trovato qualche mimetica bella teschi e basta vedo una patata che mi arriva addosso la granata ragno è una porcheria è venuta da me ma porca la biancheria eh si incredibile non sono stato shottato per primo ah ok mi ha shottato questo ah io io è passato figa ma quelli con le mitragliette in questo gioco mi spaccano mi devastano eh ma i fucili d'assetto sono più forti oh vabbè ok ritiro quello che ho detto vabbè però che la fucina erica allora i fucini degli altri sono più forti si non comprendo questa differenza anche se lo fai uguale lui sente accessori tipo ma guardato mi ha stuprato io non lo so ma veramente ma Gesù è sempre colpa di Gesù oh mi ha shottato questo che schifo eh poverino questo avrà meno connessione di me perché si muoiono perché hanno meno connessione di me oh ma no sono sempre in coppia vanno in giro come i carabinieri come i testicoli come ecco come coglioni ricoglio ci manca il terzo che è in mezzo fa cazzo fa cazzo e i ragni che inseguono e i ragni adesso fanno le granate ma in quale guerra vabbè ma erica quello che lancia i buchi neri quelli che lanciano la vagina della loro madre come un buco nero nooo uomeno dai nooo uomeno ma ho appena guardato in quella direzione no ma questo con lanciapatate sto cretino si ma ha sparato gli alluci figa gli alluci ma cosa mi succede al joystick ma va in crisi allora non sono io è proprio il joystick che impazzisce come se non riuscissi più a mirare erica si sposta da solo oppure non so se sto laggando si mi sa che laggo nooo sono in pezzi di sotto laggo oh my god non so se lo scaffi impazzito ah ma è scarico forse no boh o la lobby o il joystick o non lo so sta iniziando a impazzire tutto qua come ma come gli altri mi danno un pugno mi uccidono e io faccio hitmarker mmm questa partita salvator funziona come il cane su ghost che ti uccide il nemico quando quando sei già morto non lo so no è impazzito il joystick devo buttare via il joystick teniamo il joystick sto andando a puttane niente non so se cosa dai ma nessuno mi prende col cazzo di ok perfetto cambiamo joystick al volo perché lo scaff se n'è andato a troie ho provato ho provato a saltare con lo scaff ma non avevo i tasti perché ho fatto il joystick normale ma ti morisse la madre di cancro figlio di puttana figa spero che glielo lanciano nel culo a tua madre quello porca troia figlio di puttana nel dicappati eh già non mi funziona più il joystick poi sto sparando e mi arriva quello con lanciapatate quello che campera nella guarda ha covacciato va a uscire solo la testa nell'angolino evo ci sei? dimmi certo che ci sono davvero? non male bene è andato a troie e tutto ah ho capito perché non mi senti edica perché ho staccato il microfono no evo c'è ma non ha il microfono aspetta quanto rido questo coglione ancora con lanciapatate in culo come a sua madre gli piacciono madonna oh i cancri umani va buo oh oh Gesù Cristo oddio l'armata che partita del cazzo figlio di puttana 18-14 c'è che aborto 14-13 grande erica adesso c'è il K-bar con la nuclear lo devo trovare cazzo adesso salterà l'audio perché devo mettere il coso di qui erica adesso dovresti sentirmi ma io non sento te perché devo sistemare le impostazioni dammi un attimo scusate ragazzi per l'audio ma ho dovuto riattaccare il microfono perché ho cambiato joystick l'altro era andato a parlavo io tranquillo per te tranquilla erica ti sentivo ho smadonnato contro uno perché aveva usato il lanciapatate oh my fucking ho fatto una partita del cazzo continuavo a morire a caso poi c'è il joystick impazzito non so se è andato a puttano lo scafo o cosa ma tipo o secondo me è scarico può essere che è scarico perché andava in ritardo cioè boh partire partire un impazzito a cazzo ah ok non lo so se è impazzito o cosa lo lancio via dalla finestra questo joystick è la soluzione migliore ti ringrazio della compagnia ragazzi vi ringrazio per la vostra compagnia soprattutto per aver supportato le madonne che si sparavano ogni tanto contro certa gente ah se ormai sono abituata guarda ormai è sempre così mancavano le tue madonne però eh eh le madonne non potevo tirarle vi devo contenere un attimo ah già ragazzi io vi saluto ci vediamo sul prossimo episodio bella ragazzi